Se stai cercando di rendere più rigido l'oggetto che stampi in PLA, o il concetto vale anche per altri materiali, devi fare una cosa. O inclini l'oggetto come ho fatto vedere nello scorso tutorial, lo inclini in modo differente, o se devi stamparlo in questa posizione, c'è una sola cosa che puoi fare per aumentare la resistenza di questi perni e di queste clip. Sono molto sottili, gli strati sono pochi in FDM, cioè fusione di filamento, uno strato viene depositato sopra un altro strato freddo, quindi non è come stampare con stampi, quindi il materiale non è che secca tutto assieme. Quindi a poca resistenza, vediamo subito come fare. Lavorate con flussi alti, flusso alto, diciamo che è il 100 o 100, anche 10, fate prove, dipende dalle stampanti che utilizzate. Lavorate con layer, va bene, 0.1 va benissimo, riempimento al 100% e in questo caso sto stampando PLA, 215, temperature alte. Trovate a mettere dentro PLA, portate la stampante alla temperatura più alta che riesce a sopportare, affinché il PLA non carbonizzi, trovatela, può essere 235, io uso 240, 235, magari se la vostra stampante scalda molto, 10 gradi in meno, fate voi i test prima. Gradazione alta, il materiale fa molta più presa, diventa più lucido, ma è molto molto più resistente e ho veramente visto la differenza sul lavoro che ho fatto. Per il resto, per irrobustire il pezzo, in un altro tutorial ho fatto vedere come inclinare meglio l'oggetto. Alla prossima!